No, non è in grado, non è in grado perché non c'è la burocrazia, perché alla regione siciliana per esempio dal 91 non si fanno concorsi. Fate un po' di calcoli e vi renderete conto qual è l'età media dei burocrati dell'amministrazione regionale. Parlate con un sindaco e chiedete quanti tecnici ha nell'ufficio tecnico del comune. Vogliamo guardare i consorzi di bonifica? Vogliamo valutare quali sono le professionalità presenti nei consorzi di bonifica? Vogliamo parlare delle province dove dopo la riforma del governo Crocetta e del governo nazionale si è detto dipendenti provinciali cercatevi un posto di lavoro, andate in mobilità? Ecco perché bisogna necessariamente partire da un dato essenziale. Noi dobbiamo mettere gli enti locali e le regioni nelle condizioni di poter avviare una seria campagna di progettazione.